Bmw Group Italia, all'interno del programma di responsabilità sociale d'impresa specialmente e nell'ottica di offrire un contributo all'emergenza Covid-19 attualmente in corso nel nostro paese, ha deciso, insieme a 12 concessionari della rete ufficiale di vendita, di donare circa 50.000 mascherine ad alcune strutture ospedaliere impegnate in prima linea con il proprio personale medico e paramedico. L'iniziativa è stata promossa dal Bmw Group Italia insieme a 12 concessionari Autoclub Modena, Autoeur Firenze, Autovanti Monza, B-Auto Torino, Birindelli Vinci, M-Auto Taranto, Maldarizzi Bari, M-Car Caserta, Nanninember Brescia, Sarma Saronno, Tullopezzo Mantua e Ultramotor Matera. Questi concessionari hanno deciso di devolvere interamente l'importo derivante da un contest interno che li aveva visti a giudicarsi un riconoscimento per le performance conseguite nel 2019. Dopo più di un mese di lockdown che ha paralizzato il paese, si avvicina ora il momento di rimettere in moto le energie e trovare le soluzioni per risollevarsi e ricominciare a vivere e lavorare. In questo momento delicato, Bmw sceglie di tornare a far sentire la propria voce affidando ancora ad Alessandro Zanardi, pilota e brand ambassador Bmw, il compito di trasmettere un messaggio positivo di incoraggiamento. Per la nuova fase della campagna di comunicazione è stato realizzato un secondo film da 30 secondi che attraverso immagini suggestive del pilota e campione paralimpico che si allena offre uno spunto di riflessione ed un modello a cui ispirarsi richiamando alla necessità di non arrendersi al cambiamento e anzi trasformarlo in un nuovo inizio. La voce narrante Bmw racconta il miglior modello a cui ispirarsi e apre la strada ad un nuovo viaggio da intraprendere. Con una visione aperta verso il prossimo futuro rappresentato visivamente dalla Bmw Concept i4 che prefigura il nuovo modello elettrico atteso per il prossimo anno. Lo spot si chiude con l'esortazione di Alex. È un nuovo viaggio, possiamo affrontarlo. Con la nuova R18, prima nuova visione, poi concept ed ora realtà, Bmw Motorrad entra nel segmento delle cruiser. Come nessun'altra moto precedente, questo modello rientra a pieno titolo nella tradizione delle moto storiche Bmw, sia in termini tecnici che di design. Rifacendosi a modelli famosi come la Bmw R5 dal punto di vista sia tecnologico che visivo, sposta di nuovo l'attenzione sull'essenzialità della moto. Una tecnologia purista e senza orpelli. Il motore boxer come fulcro del piacere di guida, unitamente alle sue inconfondibili buone vibrazioni. Il design classico della R18 si combina con una tecnologia contemporanea per dare vita a un affascinante nuovo concetto di moto che riesce ad abbinare un'esperienza di guida tanto raffinata quanto emozionale. L'elemento principale della nuova Bmw R18 è un motore boxer bicilindrico di nuova progettazione, il Big Boxer. L'aspetto imponente e la tecnologia rispecchiano la continuazione dei motori boxer tradizionali raffreddati ad aria che per più di 70 anni hanno offerto una stimolante esperienza di guida fin da quando Bmw Motorrad iniziò la produzione nel 1923. Il più possente motore boxer bicilindrico mai usato nella produzione di moto ha una cilindrata di 1.802 cm³. La potenza massima è di 91 CV a 4.750 giri al minuto. Da 2.000 a 4.000 giri al minuto sono sempre disponibili più di 150 Nm di coppia e questa essenziale potenza di spinta si fonde con un suono pieno e vibrante. Una moto fatta per appagare tutti i sensi. La nuova Mini Cabrio Sidewalk è una versione speciale in grado di incarnare tutta la voglia di primavera e di leggerezza che segue sempre momenti tanto pesanti come quello che abbiamo vissuto. Questa edizione di Mini Cabrio è un invito ad alzare la capote e catturare i primi raggi di sole caldo, alzare gli occhi verso il cielo e ammirare lo splendore colorato del fiore di ciliegio. La Mini Cabrio Sidewalk offre un impressionante contrasto con i suoi colori. L'esclusiva vernice metallizzata Deep Laguna è abbinata a bonnet stripes e cerchi in lega leggera da 17 pollici scissospoke a due tonalità. Anche il Mini Yours Soft Top presenta una grafica dedicata, un'opera d'arte a freccia intrecciata che in soli 18 secondi si schiude sul cielo azzurro ed il sole. Anche dentro all'abitacolo Mini Yours Leather Lounge Sidewalk si è creata una tela dai colori vivaci, grazie anche alle cuciture a contrasto in petrol ed energetic yellow. Presentata alla stampa italiana in streaming, Mini Cooper SE è ora pronta a risolvere in modo tipicamente mini tutte le esigenze, oggi ancora più stringenti, di mobilità urbana. Anche la guida in modalità full electric può essere finalmente vissuta in pieno stile mini, combinando la mobilità sostenibile con il divertimento di guida, il design espressivo e la qualità premium tipici del brand britannico. La potenza erogata dal motore da 184 cavalli, la trazione anteriore e l'innovativo sistema di trazione con sistema di controllo dello slittamento delle ruote anteriori conferiscono alla nuova Mini Full Electric un Go-Kart Feeling davvero sensazionale. La batteria agli ioni di litio, specifica per il modello, assicura un'autonomia compresa tra 235 e 270 chilometri. Massima attenzione anche alla versatilità, grazie anche alla batteria ad alto voltaggio che si trova nel pianale del veicolo, evitando quindi una riduzione del volume.